Scoprite come preparare con noi la torta Oreo, una cheesecake senza cottura in cui gli Oreo vengono utilizzati sia per preparare la base sia per addolcire la crema mascarpone. Seguite le mie mani! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! La torta Oreo è adatta per festeggiare compleanni o ricorrenze speciali e si possono apportare numerose modifiche. Il mascarpone, per esempio, può essere sostituito con filadelfia o ricotta o alla crema possono essere aggiunte scali di cioccolato bianco fondente. E infine decorate a piacere la torta Oreo con qualche biscotto intero, un fricciolato o qualche ciuffetto di panna montata. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!